Beh ragazzi, guardate che cornice il Castello del Valentino, un'architettura perfetta per le supercar di Cars & Coffee che è una comunità di proprietari e di entusiasti delle auto e dei motori che tirano fuori dai loro garage questi capolavori per partecipare ad eventi come questo e far vedere queste auto da sogno anche al pubblico. Siamo qui al Salone Parco del Valentino di Torino e adesso vi spiego un po' meglio che cos'è questa community del Cars & Coffee perché in Italia è ancora poco conosciuta ed è una figata. Allora, Cars & Coffee per noi è sinonimo di riunire persone con la stessa grande passione per le auto, in particolare per le supercar e l'obiettivo è far godere di questi mezzi incredibili sia i possessori che gli appassionati attraverso varie tipologie di evento che noi definiamo i nostri main event come Brescia a eventi come oggi che definiamo meeting, ad altri invece come il tour di tre giorni che abbiamo fatto tra Emilia e Toscana andando a visitare la Pagania Automobili. Si diventa membri di questa comunità richiedendo di partecipare ad uno dei nostri eventi e se la macchina è consona, quindi affinché la macchina sia consona deve essere una sportiva, una super sportiva, un hypercar si viene ammessi e quindi automaticamente si diventa membri di questa grande famiglia. Il pubblico viene coinvolto soprattutto tramite i social network o mezzi online che ormai sono diventati una vera e propria bomba al giorno d'oggi. Cerchiamo di avere ovviamente le vetture di più alta qualità possibile ma tentiamo sempre di avere una rappresentanza di tutto quindi ai nostri eventi si vedrà sempre anche almeno una MG, una M, un RS e poi ovviamente si vedranno magari tante Ferrari, Lamborghini o hypercar in generale però tutte devono essere quantomeno rappresentate. C'è sempre più richiesta per partecipare agli eventi futuri anche perché ormai in Italia siamo arrivati a coprire l'intero territorio e quindi ovviamente c'è molto interesse. Allora mi ricordo l'arrivo due anni fa di Dishmi 150 con la sua McLaren che è arrivato con le porte alzate e due ragazze sulla macchina, una ragazza sul coffer dentro il bagagliaio ed è stata una cosa incredibile, la folla, migliaia di foto e quella è stata una delle scene che più mi ricordo.